Bentornati sul mondo Juve, raga lo so è un po' di tempo che non pubblico video ma da adesso in poi ritorneranno sempre più spesso Il calciomercato è accesissimo e proprio questa sera Bremer, Bremer del Torino difensore centrale, è arrivato a Torino Per andare a Vedez con la Juventus, entro domani mattina e fare le visite mediche Bremer, bentornato alla Juventus, direi che è quasi ufficiale Essendo che Torino era in Austria a fare la preparazione della stagione Ha preso l'aerro, ha detto ciao ai suoi compagni ed è tornato a Torino dove in questo momento c'è la Juventus C'è anche un video su internet dove si vede che lui atterra all'aeroporto di Torino e sale in una jeep bianca E c'è uno del marketing della Juventus, se non sbaglio lì in mezzo, che lo accompagna Quindi raga è fatta, come purtroppo è fatta anche per Delete che ho comprato la sua cazzo di maglia Proprio qui l'ho comprata perché ero convinto che lui fosse l'unico giocatore Ovvero uno dei pochi, dei giocatori che a me piacciono tantissimo A rimanere questa stagione con la Juventus e a tenere anche il suo numero Perché Vlaovic per esempio ha cambiato la 7 a 9, Chiesa ha preso la 7 Pogba non è ancora disponibile quando l'ho presa, quindi difficilissimo E già, quindi direi quasi benvenuto a Bremer Se la faccio, sulla, su, delito, oddio Forza farò un altro video domani mattina Anche perché, come devo dirvi, non so se si vede Se mi accendo i led rossi Beh no, non si nota tantissimo Mi fa incazzare un po' sta cosa Io non avrei mandato via Delic Ma, vabbè Comunque, Bremer alla Juventus Forza Juve Comunque, Bremer alla Juventus